musica 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 grazie mille per questa esperienza E' stata bellissima e super istruttiva. Questa è stata emozionante. Ah, è stato interessante scoprire qualcosa che non conoscevo onestamente. Questa parte dell'Oltrepo Pavese era a me sconosciuta. Poi ti ringrazio perché si vede quella passione nei tuoi occhi. Questo è un plasse, assolutamente. Quando ci riscrivi i prodotti, è una cosa davvero in più. E' stata una bellissima giornata. Grazie ancora a Maurizio. E' una terra meravigliosa. Grazie Maurizio. A presto. Grazie a Selezioni. Suggerisco a tutti di provare questo format. Perché penso che sia un modo nuovo per far conoscere il nostro territorio l'Oltrepo Pavese. Grazie.